Cambiare il mondo con i libri, un testo che racconta l'incredibile storia di Gian Giacomo Feltrinelli, un personaggio di rilievo per la cultura italiana. Nato a Milano nel 1926 partecipò giovanissimo alla Resistenza, fondando poi nel 1954 la casa editrice che porta il suo nome. Nel 1970 fondò una delle prime organizzazioni armate di sinistra, i gruppi di azione partigiana. Morì a Segrate nel 1972 mentre preparava, sembra, un'azione di sabotaggio ad un traliccio dell'alta tensione. Le cause della sua morte ancora oggi presentano delle zone d'ombra. Con la videocamera di Cara Garbatella ci siamo recati alla Librevia Nuova Europa e Granai per incontrare Mattia Tombolini, autore del libro e fondatore nel 2019 della casa editrice Momo Edizioni. Ho scritto un libro su Gian Giacomo Feltrinelli perché penso che sia un grande rimosso collettivo di questo paese. Un libro su di lui e sulla sua figura poteva essere un modo per parlare di tante cose. Sia della mia esperienza dentro Momo Edizioni, dentro i tre anni della casa editrice, il modo di Momo di parlare insomma ai ragazzi. Sia per parlare di che cos'è il mondo dell'editoria, che cos'è un libro, come si fa, cosa c'è dietro, ma anche per raccontare pezzi della storia di Italia che è quella che attraversa Gian Giacomo Feltrinelli che è una vita politica, molto politica, ma anche caratterizzata da una fortissima radicalità nel lavoro culturale che ha fatto. Il libro è arricchito dai disegni di Marta Baroni e dalla postfazione di Carlo Feltrinelli. Il testo della collana Libri Monelli è disponibile in tutte le librerie, negli store online e sul sito di Momo Edizioni.